Per la prima volta anche il Comune di Biella aderisce al progetto nazionale WISP finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello Sport che è stato presentato presso il Centro Anziani del Vernato. L'iniziativa prevede la distribuzione nelle farmacie aderenti di confezioni che richiavano le scatoline tipiche dei farmaci ma la medicina contenuta è il movimento. A Biella e in provincia verranno distribuite gratuitamente queste particolari pillole di movimento. Ogni confezione conterrà un bugiardino con i dettagli per svolgere un mese di attività motoria gratuita nelle associazioni affiliate a WISP, scadenza della medicina, maggio del 2022. Isabella Scaramuzzi, Assessore del Comune di Biella, ha dichiarato Siamo felici di sostenere il progetto Pillole di Movimento condividendo la campagna di sensibilizzazione con l'obiettivo di combattere la sedentarietà e promuovere uno stile di vita sano ed attivo. È un progetto ideato nell'ambito delle proposte tese alla diffusione della cultura e del movimento rivolte alla cittadinanza nell'ottica di promozione della salute e di prevenzione primaria. Anche il direttore del Dipartimento di Prevenzione della SL di Biella, Luca Sala, asserisce che l'attività fisica concorre a prevenire l'insorgenza delle principali malattie croniche. Rappresenta uno strumento essenziale di promozione della salute, del benessere psicofisico e relazionale, ma anche un'opportunità per una migliore qualità di vita in situazioni di malattia.